Ciao a tutti, oggi è mercoledì 6 giugno 2018, siamo tornati qui dove c'è l'ex bar Marini a vedere se per le volte avevo chiuso. Sono le 15.30 quasi del pomeriggio e sono qui sempre con il professor Maggini. Allora, com'è? Abbiamo verificato che la serratura è stata ripristinata e c'è una chiusura ormai in atto, anche se a nostro parere una porta così andrebbe messa in sicurezza, vale a dire coperta o con delle assi o con delle inferiate, perché è l'unico modo per garantire un minimo di sicurezza. Però abbiamo scoperto anche altre cose, venite. Allora, abbiamo scoperto anzitutto la facilità con la quale si può accedere a questi locali, che basta con un fil di ferro e uncino entrare in questi forellini, tirare la barra di apertura della serratura di sicurezza e si entra. E si va giù. E un'altra cosa ancora più scandalosa secondo noi. E questo bloccaggio qui, lo vedete questa barra di bloccaggio, che però presenta il lucchetto aperto. Anche qui con un po' di ingegno? Si, di destrezza, ma così abbastanza elementare si può, con un fil di ferro, rendere innocua questa serratura e aprire. Ecco, va bene. Qui è tutto quello che noi cittadini attenti abbiamo potuto verificare dopo il blitz di questa mattina. Ok, va bene. Arrivederci. Ci vediamo, eh? Che vediamo poi di andare a fare un altro giro. D'accordo. Ok? Arrivederci, ciao. Salve a tutti, ciao.